Salve, voi sapreste la strada per tornare a casa? Certo che so la strada. Oh, bene! Superi... ...la merda. No, non credo che sia lì. Mi sono perso. Si è un randaggio, puoi fare tutto quello che ti pare adesso. Quest'acqua mi stordisce. Non è poi male stordirsi. Mi hai ingroppato qualcosa prima d'ora? Di recente mi sono... ...sto divano. Mai fatto un sesso così? Oh, è veramente lurido. Oh, sì, sì, immagino. Sembra che nessuno lo lavi da anni. A dopo, baby. È stato un piacere. Grazie, ma io dovrei tornare a casa da Doug. Possiamo aiutarvi? Ci siamo persi e le mie zampette da cucciolo mi fanno un male cane. Poteva andare peggio. Spiegami come poteva andare peggio. Eh, come poteva? Resisti, bello! Le tue palle sembrano enormi da qua sotto. Grazie, ma par... Quella è la cosa più assurda che io abbia mai visto. E io sono Dennis Quaid. Dennis Quaid ne ha viste di s*****a. Muoio di fame. Quanti ne possiamo mangiare? Tutti? Un secondo. Sembri diversa. Sembri diverso anche tu. In che senso? È per le mie mani umane? Oda. Sì, la polizia! Io cosa facciamo? Calmati, ci penso io. Salve, agente. Nessuno di... Chiudete quelle b*****e bocche. C'è Murpey. Ciao.